Amici siamo nuovamente in Sabina, a Torre in Sabina e oggi abbiamo visto delle cose eccezionali veramente brava, brava te e bravi tutti coloro che tu hai portato qui su questo palco Grazie, sì, questa sera a Torre in Sabina appunto abbiamo portato il musical Romeo e Giulietta e loro sono la Life Dance School di Torre in Sabina, Casperi e Forano Cosa l'insegnante, la coreografa? Esatto, sì, da 23 anni a Torre e da 28 anni in Sabina quindi qualche anno diciamo Bravissima davvero, qualche altro progetto per il futuro? Sì, 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 già stiamo organizzando lo spettacolo del 26 dicembre a Casperia e poi già comunque ci sono, ah una cosa importante abbiamo Circo Massimo il 16 settembre quindi un grande evento equestre dove appunto parteciperemo noi come associazione Ah, che farete lì? Faremo proprio la chiusura, quindi rappresenteremo un orologio, proprio lo sponsor ufficiale non lo dico perché comunque è una pubblicità, però ecco rappresenteremo l'orologio Complimenti, bravissimi davvero